Ben ritrovati dalla redazione di Cosmopolis Media, ecco le nostre notizie. Pensavano di passare inosservati per le vie del quartiere Tamburi di Taranto a bordo della loro utilitaria, ma la presenza in quella zona di un uomo e di una donna, provenienti da un altro noto quartiere tarantino, ha destato invece i sospetti dei carabinieri del capoluogo ionico, che dopo averli pedinati ed osservati, hanno deciso di fermarli e procedere ad un controllo. A bordo dell'auto la coppia trasportava in uno zaino un ingente quantitativo di cocaina. Le forze dell'ordine hanno così deciso di estendere la perquisizione anche all'abitazione dei due giovani, all'interno della quale è stato ritrovato oltre mezzo chilo della medesima sostanza stupefacente. Il 33enne Tarantino è stato pertanto arrestato, mentre la donna è stata denunciata a piede libero. Ma per i carabinieri il risultato più importante è aver evitato l'arrivo sul mercato illegale di stupefacenti di oltre 2.000 dosi di cocaina, che avrebbero fruttato alla criminalità locale diverse centinaia di migliaia di euro. Lo stupefacente sequestrato è stato consegnato al laboratorio analisi sostanze stupefacenti del comando provinciale di Taranto, che procederà a svolgere le opportune analisi. Due distinti interventi della Polizia di Stato a Taranto nei giorni scorsi, i poliziotti del commissariato Borgo, unitamente al personale di Enel Distribuzione, hanno accertato un presunto allaccio abusivo alla rete elettrica all'interno di un bar situato nel centro della città. I tecnici dell'Enel hanno proceduto al distacco del dispositivo fraudolento, mentre il titolare della struttura è stato denunciato alla competente autorità giudiziaria. Il danno stimato nei confronti del gestore di energia elettrica è di 70.000 euro. Successivamente una pattuglia della squadra volante è intervenuta per segnalazione giunta al numero di emergenza 113 relativa al danneggiamento di un autobus di linea ad opera di alcuni ragazzini. Sul posto gli agenti di polizia hanno individuato e identificato il minore che, secondo il suo stesso racconto, avrebbe per sbaglio colpito con una pietra la parte superiore del vetro adiacente, la porta d'ingresso del bus, frantumandolo in mille pezzi. Il ragazzo, al termine degli accertamenti, è stato riaffidato ai suoi genitori. 22 lavoratori in nero e 3 irregolari scoperti dalla Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Taranto, nell'ambito dell'attività di controllo economico del territorio, svolta all'interno del capoluogo ionico e di altri comuni della provincia tarantina. Le fiamme gialle stanno ora svolgendo specifici approfondimenti per verificare la regolarità dell'assunzione di ulteriori 19 lavoratori, verbali per l'utilizzo di mano d'opera in nero e regolare per 13 datori di lavoro. La Guardia di Finanza di Taranto ha ricordato che il lavoro in nero è piaga per l'intero sistema economico, perché sottrae risorse all'erario e mina gli interessi dei lavoratori spesso sfruttati, consentendo una competizione sleale con le imprese oneste. Sanzioni più severe per i guidatori distratti dal telefono o sotto l'effetto di alcol e stupefacenti. Sono solo alcune delle novità presenti nel disegno di legge sulla sicurezza stradale e la delega per la riforma del Codice della Strada, che a ottobre potrà iniziare il suo iter parlamentare. Su proposta dei sindaci aumentano le multe per eccesso di velocità, con sospensione della patente da 15 a 30 giorni per chi supera i limiti in città due volte in un anno. Per chi si mette alla guida sotto l'effetto dell'alcol sono previste pene più severe, per i recidivi le multe saranno aumentate di un terzo e sarà proibito circolare senza aver installato l'alcoloc. Per i neopatentati il divieto di guidare supercar salirà a tre anni, mentre i minorenni trovati alla guida ubriachi o sotto l'effetto di droghe non potranno prendere la patente fino a 24 anni. Numeri bassi ma in aumento e ampiamente sottostimati rispetto a quelli effettivi e quanto emerge dal monitoraggio di Fondazione Gimbe è reso noto nella giornata di ieri in merito ai casi di Covid-19 in Italia provocati dalle nuove varianti in circolo del virus. In particolare in Puglia l'aumento registrato negli ultimi sette giorni, ovvero nel periodo compreso tra 7 e 13 settembre, sarebbe del 14,4%. L'incremento maggiore nella provincia di Barletta, Andrea Trani, seguono Bari e Taranto con il 17,2%, poi Brindisi e Lecce, mentre a Foggia si evidenzia un calo dei casi. Nessuna preoccupazione però dal punto di vista della pressione ospedaliera. L'occupazione dei posti letto negli ospedali infatti resta sotto la media nazionale ed è pari al 2,2% in area medica e allo 0,6% nelle terapie intensive. Sembra non aver fine il caldo africano che attanaglia la Puglia dall'inizio dell'estate. Se il nord e il centro della penisola italiana infatti saranno interessati da ben due perturbazioni, il sud Italia ed in particolare la nostra regione continueranno a registrare temperature estive ancora per un po', a dichiararlo sul Meteo.it il meteorologo Lorenzo Tedici che però annuncia un probabile cambiamento entro questo fine settimana. Un ciclone proveniente dal Mediterraneo infatti potrebbe portare piogge e addirittura possibili nubi fragi tra Tirreno Meridionale e Marionio. Il maltempo che potrebbe durare fino alla metà della prossima settimana causerà un crollo termico di alcuni gradi, regalando anche al mezzogiorno un clima decisamente più autunnale. Si è svolto questa mattina a Talsano l'evento di posa del primo pannello dell'impianto fotovoltaico Zamboni. Presenti il sindaco di Taranto, Rinaldo Melucci, Marco Marsili, country chair di Shell Italia e Gianfranco Chiarelli, commissario della Camera di Commercio di Taranto. Beh, sta tutto nella strategia di transizione giusta europea che abbiamo messo insieme. Ovviamente non l'abbiamo messa insieme raccogliendo soltanto l'interesse dei cittadini, insomma, delle parti sociali, degli stakeholder locali. È una strategia che mira a riposizionare il nostro modello economico e la nostra immagine anche nei confronti degli interlocutori multinazionali, forestieri, insomma, che investono in settori aderenti a quelli che le politiche europee hanno tracciato per la transizione giusta. Peraltro con Shell, devo dire, come sapete, all'interno della joint venture di Tempa Rossa abbiamo già in piedi un protocollo d'intesa, un percorso con altre collaborazioni molto significative, specie per i più giovani di questo territorio o per il porto, in relazione all'infrastruttura di Tempa Rossa. Voglio anche ricordare che, oltre a questo parco importante, che è il primo che Shell realizza sul territorio nazionale, noi stiamo studiando, stiamo realizzando altre collaborazioni con Shell per lastricare e assolare anche alcuni immobili di proprietà comunali. Insomma, una sinergia che guarda anche prossimamente, stiamo per buttare giù un regolamento, alle comunità energetiche per una città che quando diciamo che vuole affermarsi a livello nazionale come benchmark, come modello di transizione, come laboratorio, transizione energetica lo fa sul serio, non rimane nei nostri convegni, rimane, diventa azione concreta e oggi è uno di quei giorni in cui facciamo azioni concrete grazie chiaramente a un investimento importante dei privati. Sì, Shell è presente in Italia da oltre 100 anni, quindi ovviamente nei 100 anni ci siamo sempre focalizzati sul fornire prodotti ed energia, prodotti energetici ai cittadini italiani. Anche adesso abbiamo un portfolio integrato, quindi abbiamo attività tradizionali come per esempio le attività in Basilicata di estrazione di gas e produzione con i nostri partner di Eni, Totale e Mitsui. Abbiamo poi, diciamo siamo un grosso player dal punto di vista di gas, vendiamo sia il gas che produciamo in Italia sia il gas che importiamo e vendiamo maggiormente a clienti industriali e commerciali che sono un po' la base del nostro portfolio di clienti. Questo di oggi è un esempio di un settore dove stiamo crescendo, poseremo il primo pannello nell'impianto di Zamboni che è un impianto di energia rinnovabile, il primo che entrerà nel portfolio. Abbiamo con noi anche un cliente che sostanzialmente è la compagnia che comprerà gran parte di questa elettricità rinnovabile che verrà prodotta dall'impianto, quindi siamo particolarmente orgogliosi. Come Camera di Commercio è un momento molto molto importante l'inaugurazione di questo impianto fatto dalla Shell sul nostro territorio per le nude vicende che attanagliano poi il nostro territorio. È evidente che un impianto così di energia alternativa per Taranto e per l'intera provincia rappresenta il punto di partenza per uno sviluppo più sostenibile e soprattutto per uno sviluppo più green. Per cui benvenga ed ecco la testimonianza di oggi qui su questo impianto che non solo è molto grande ma sicuramente produrrà anche tende effetti positivi per quanto riguarda il nostro territorio. Nell'ambito della Settimana Europea della Mobilità Sostenibile 2023 questa mattina gli studenti del Pitagora hanno partecipato presso il Teatro Emanuele Basile ad un incontro formativo per sensibilizzare alla mobilità sostenibile e al miglioramento della vita nella città di Taranto. L'evento rientra nella kermesse di iniziative che dal 16 al 22 settembre coinvolgerà tanti protagonisti del territorio ionico, istituzioni, enti, associazioni, nonché tutti i cittadini sul tema della sostenibilità nei trasporti. La Settimana della Mobilità Sostenibile fa tappa al Pitagora con un evento e l'evento lo festeggiamo, lo celebriamo nel nostro teatro Emanuele Basile alla presenza di numerose autorità. Abbiamo l'onore di avere anche tra gli altri il sindaco di Taranto, Rinaldo Melucci. Sicuramente la prospettiva è quella di educare i giovani a una nuova cultura, la cultura della sostenibilità. C'è da dire che però in realtà il segnale più forte è venuto proprio da loro. A livello internazionale abbiamo visto proteste, manifestazioni, quindi in realtà quella di oggi è una risposta, è un'azione vera e propria, concreta, per mostrare i giovani che tutti insieme si può cambiare. È necessario operare un rovesciamento delle mentalità. Non dimentichiamo che negli anni 30 Taranto era sostenibile. Poi la città si è ampliata e quindi si è riempita di automobili, ma proviamo a vedere quando non c'è il collasso delle auto nelle nostre città. È come se restituissimo gli spazi, le piazze alla gente che ha bisogno di incontrarsi, ha bisogno di fare anche shopping. In fondo Taranto attraverso i giovani, attraverso un cambiamento culturale che arriva anche alle famiglie, ha bisogno di rispolverare quell'antica bellezza che ha nel suo germe e che deve essere un bene di tutto. La città è incomodata d'uso, poi noi la dobbiamo restituire, conservare migliorata alle future generazioni. Ne parlavo oggi con la dirigente del Pitagora che ringrazio per l'ospitalità e per aver aderito con tanto entusiasmo insieme al corpo docente e ai suoi ragazzi a questa iniziativa. È un'iniziativa che cambia il DNA della città, cambia il nostro stile di vita, ha la potenzialità di moltiplicare ricadute economiche, sociali, specie nei quartieri periferici della città e quindi ha un impatto importante sul futuro di questi ragazzi. Peraltro ne discutevamo con la dottoressa Bonucci. Ovviamente ci sono anche indirizzi negli istituti che vengono selezionati per questa Mobility Week che hanno un qualche collegamento con l'ipotesi di studio della mobilità, le bioretti elettriche, tutto quello che la mobilità si porta dietro in termini anche economici di marketing territoriale. Insomma una bella giornata, sono sicuro che i ragazzi risponderanno con grande entusiasmo e vedo che in città si guarda questi argomenti finalmente con interesse, con curiosità, con attenzione, consapevoli che come avviene in tutte le grandi città del nostro paese e d'Europa la mobilità, oggi si parla di città a 15 minuti per intenderci, ripeto, migliora la vita. Non è un fatto estetico, non è un capriccio dell'amministrazione pubblica, è qualcosa che ha a che fare con la qualità della nostra vita quotidiana. Si svolgerà venerdì 22 settembre a partire dagli ore 20 presso Masseria Casino La Noria in via San Donato a Taranto Boxing in the Night, un gala di sport, spettacolo e beneficenza che ha come obiettivo quello di raccogliere fondi, da destinare ai pugili che non possono permettersi di pagare i propri corsi ed allenamenti. Sul ring adibito nella bellissima area Prato Piscina della Masseria combatteranno tanti giovani pugili promettenti del territorio, con il clou che vedrà protagonista il quattro volte campione italiano e vice campione europeo Davide Fiore. L'evento sarà presentato dal giornalista sportivo Matteo Schinaia. Beverage, food e musica lieteranno la serata, ospiti speciali gli attori di Moodoo. Al termine della conferenza stampa di presentazione abbiamo ascoltato l'organizzatrice Christel Dursi e il presidente della Federazione Pugilistica Italiana Puglia e Basilicata Nicola Causi. Abbiamo cercato di creare un connubio veramente importante unendo tutte quelle che sono le caratteristiche culturali, come hai detto prima, musica, sport e spettacolo. Non ci resta che aspettarvi tutti insieme e ricordarvi che un piede in più in palestra è un piede in meno in mezzo alla strada. La preparazione prosegue bene, tanti allenamenti con altre palestre, soprattutto con mio padre che mi segue da sempre. Per ora tutto bene, siamo pronti alla serata. Io credo che qualsiasi occasione per poter far sì che uno scopo benefico venga abbinato poi all'utilità di una possibilità di un ragazzo di potersi dedicare ad uno sport che è così bello e così affascinante e che soprattutto possa portargli delle importanti gratificazioni. Quindi credo che sia stata un'idea geniale e soprattutto anche l'abbinata con lo spettacolo credo che non farà altro che dare maggiore lustro a questa serie di incontri così magistralmente organizzati dal maestro Cubri. Continuano gli allenamenti in casa della gioiella Prisma Taranto dopo la vittoria inamichevole di sabato scorso contro Castellana. Abbiamo ascoltato Angel Trinidad De Aro, nuovo palleggiatore della squadra allenata da mister Mastrangelo. Le prime due settimane sono stato un po' più duro perché tornare all'attività fisica sicuramente i primi giorni con l'acido lattico ci vuole un po' di tempo ma adesso ogni giorno si sente che stiamo migliorando, che ognuno si sente più comodo e quindi si sta bene. Hai avuto modo di visitare Taranto, di dare un'occhiata a questa bella città dei due mari? Sì, soprattutto il centro, la città vecchia. Mi piace tantissimo quella parte per passeggiare, per prendere qualche caffè, qualche cornetto anche i giorni liberi. Mi piace tantissimo, anche sono nato vicino al mare e quindi qui mi trovo come casa. Hai disputato diversi campionati europei e hai già giocato in Italia. Quali sono le maggiori differenze tra l'Italia, la Polonia e le altre nazioni in cui hai giocato? Sicuramente tra l'Italia e la Polonia dal livello non c'è tanta differenza, sono due campionati veramente forti e dopo ogni campionato come la Francia e il Belgio hanno la sua caratteristica di gioco. Quindi è stato un bel giro questi ultimi dieci anni in Europa. Ho potuto imparare di tutti quelli campionati. Cosa ti senti di promettere ai tifosi della gioia e la prisma? Di promettere come risultato? Non mi piace promettere niente, solo che stiamo lavorando fortissimo per quello che abbiamo già parlato la prima settimana, che questa città e questa società sente la pallavolo come una famiglia. Stiamo lottando e dando il massimo ogni giorno e dopo i risultati parleranno per loro stesso. Dalla redazione di Cosmopolis News è tutto. Al prossimo aggiornamento.